Messo dentro Nonostante l'enorme pressione, la messa di spalle del progetto Sì, una sinistra Per tirare, sta prendendo posizione per la ricorsa Messo dentro, con molta sicurezza Ecco quello che potrebbe essere Ha scegliato, la partita si chiude qui Sono riusciti ad uscire vittoriosi da questo incontro Dopo aver ruotato per 90 minuti, non è solo del campo